Dalla panchina con Diaw il gol del pareggio, merito anche di saper leggere le gare da parte sua? Il merito è sempre del ragazzo che si fa trovare pronto, questa classifica dice che non ne ho tanti, sono sempre i ragazzi che sono sempre molto bravi e anche oggi hanno dato l'anima. Questa è una cosa positiva che è successa oggi, la cosa un po' meno positiva sicuramente è questa partenza sempre a handicap con questi gol presi nei primi minuti che ci portano poi a spendere molte energie nel resto della gara. I ragazzi secondo me, anche se non c'è stata tantissima intensità, hanno anche giocato un buon calcio, siamo arrivati tantissime volte al crossare dal fondo come l'avevamo preparata, però nelle uniche due volte che sono venuti giù al primo tempo ci hanno fatto gol, quindi poi raccontiamo questo. Dobbiamo continuare a lavorare sugli approcci, cosa che non va assolutamente bene, però ai ragazzi anche oggi non posso dire niente, anzi. Castori dice che sono due punti persi, lei dice che anche meritava di vincere l'interno, è stata una partita che Gagliardi poteva vincere sia l'una che l'altra. Io giustamente siamo a caldo, la voglio rivedere, le sensazioni ce le ho, io credo che la mia squadra sia stata dentro l'area di rigore molto più tempo rispetto al Cesena, si ha tantissimi traversoni, qualche colpo di testa è andato fuori di poco, è chiaro che il Cesena dopo cinque minuti ha trovato la sua partita, a giocare di ripartenza come è nella loro idea, quindi se il mister la pensa così io lo rispetto perché un allenatore con tutti quegli anni di carriera alle spalle va solo che ha rispettato, però io dico che al primo tempo se finisce uno pari secondo me vediamo un'altra partita. La bellissima da vedere per quanto mi riguarda, ma manca di personalità in qualche soggetto, nel senso che più di una volta si è avuto l'impressione che quel che è duro potesse tirare, ma invece poi si cerca di andare in porta col pallone. La pensa così come me o no? Penso come lei sul fatto che comunque i ragazzi hanno giocato bene, hanno giocato bene, ripeto, a volte la manovra poteva essere un po' più veloce, però oggi le trame si sono viste. Non è facile giocare sempre sotto di un gol in casa, quando sei magari predisposto per fare un altro tipo di partita, quindi c'è la condizione mentale in questo momento nei miei ragazzi pesa e capisco anche la poca lucidità e il poco coraggio in fase offensiva, però ripeto, sono stati molto bravi oggi.